Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è il Gunner che vi parla. Questa nuova sezione l'ho chiamata Road to Prima Divisione Offline. Non è esattamente così, perché come vedete sono in seconda divisione e... Purtroppo non ho potuto registrare sia gli acquisti, gli opening pack, insomma tutto quello che mi è successo, perché non avevo legato. Ma non è troppo tardi, siamo ancora in seconda divisione, manca ancora tanto per arrivare alla prima. Tutta la seconda divisione, come vedete le partite sono tante e sono difficili. Quindi partiamo immediatamente, direi. Però prima di cominciare devo controllare la formazione, che non ci siano scadenze di contratto, infortunati, ma non credo proprio. L'ultima volta che ho visto era tutto ok. Non questa, non uso questa qua, ma uso la titolare. No, qui tutto a posto, ma ripeto uso la titolare. Vediamo. Bene, no, è tutto ok, quindi possiamo partire. Se non ho visto male, devo affrontare l'Inter, esatto, a livello leggenda. Se non ho visto male, diciamo dai, rosso-nero, siamo in casa. Leggenda, leggenda. Bene, partiamo. Carter and Carter contro Inter. Fa molto strano vedere alcuni giocatori con la maglia rosso-nera. Capitano Buffon, arbitro Loic de Kini-Francia. Minchia, sono emozionato, ragazzi. Ma hanno il centrocampo storto? Partiti! Vediamo un po'. Uh, fascia, 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 fascia. Abate, abate, in Ignazio. Uno, due, in Ignazio, in Ignazio. BOLTELLI! Nooo. Ah, fuori gioco, fuori gioco. Millimetrico. Anche Andanovic non è male come portiere, però ho preferito stare su Buffon e Marchetti. Porta a porta, come all'oratorio. Rimessa. No, meglio cambiare gioco. Facciamo dall'altra parte. Un po' più libero. Bella. Dai, bellissimo, vai. Ah, vabbè. Anche se a livello leggenda cercate sempre di fare un bel po' di pressing. E sbagliano anche loro a volte, come adesso. Come adesso. Rientra. Dai! Ma cosa ha parato? Ma cosa ha parato? Ma che cosa ha parato? Dai! Sul primo. Gbonna! No. Odio quando fanno girare la palla così. Bella! Ma guarda Tevez, vai Tevez! Vai Tevez, vai Tevez! Dai! Ma vaffanculo! Abbiamo un po' di spazio. Ci concedono un po' di spazio. Vai Abate! Vai Abate! Uno, due! Vai Abate! Vai Abate! Vai Abate! Vai affanculo! No, questa era la loro prima azione! No! Oh! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Vai Abate! Vai Abate! Bella Abate! Vai Abate! Dai! No! Niente di che! Ibarbo! Ibarbo razzi nel culo Ibarbo! Vai Vidal! Vai Vidal! Dominio! Dominio ragazzi! Forza ragazzi! Dai che un uno o meno lo facciamo! Dai ragazzi! Bellissimo! Vai Tevez! Dai! Go! Carlito! Stevez! 1-0! La messa! All'angolino! 1-0! Carter and Carter! Per ora le statistiche sono nettamente dalla mia parte, a parte il possesso palla. Ma tutti sappiamo che è buggato. Sostituzione nelle fine dell'Azzurra e Tider per Jonathan. Vai Antonio! Vai Antonio! Vai Antonio! Vai Antonio! Bello! Vai Valo! È riuscito a crossare peggio di Abate! Non ci credo! Bisogna mettere a sicuro il risultato qua perché... Può succedere un disastro! Vai Valo! No! Fuori gioco! Fuori Nagatomo e dentro Mudding Eye. Non facciamo cazzate! Non facciamo cazzate! No! No! Dai! Dai! Dai Tevez! In mezzo! Dai! No! Spazi enormi e possesso palla tutto nostro! Dai ragazzi! Dobbiamo fare il secondo! Stare più tranquilli! Dai Valo! Ma tira di destro! Il gioco è bloccato qua a centrocampo! Devo allargarmi! Devo andare sulle fasce! Per forza! Non ho altra scelta! Sono tutti in mezzo! Tutti lì! Fermi! Dobbiamo allargare il gioco per forza! Fare un cross e sperare di fare il secondo! No Guarin! No Guarin! No Guarin! Non farlo Guarin! Bravo Guarin! Bella Guarin! Potrebbe anche finire 1-0 ma va bene per carità! Però... Stavamo un po' più tranquilli col 2-0 insomma! Dai Valo! Dai Valo! Dai Valo! Vai! Dai Valo! Dai Valo! Ed è gol! Mario Barotelli la messa! 2-0! Carter in Carter! Partita chiusa! Dai arbitro fischio che siamo stanchi! Bella! Applauso! Bravi ragazzi! E andiamo con la seconda vittoria! Ma rivediamoci i due gol fantasticissimi! Bella Tevez! E infine Balotelli al novantesimo! Tac! Uomo partita! Il signor Paul Pogba! Bella ragazzi! I soldi me li prendo molto volentieri! Ci vediamo al prossimo video! Mettete mi piace! Commentate! Condividete! E soprattutto iscrivetevi al canale! E al prossimo video! Ciao Billy!